Don Marco Pagnello, si va verso l'estate, i problemi a Pescara e anche in provincia aumentano per quanto riguarda i senza tetto, i poveri, le persone in difficoltà. La Caritas continua in questo lavoro quotidiano davvero enorme, situazione comunque difficile. La Caritas sicuramente non va in ferie, così come non vanno in ferie tutte le realtà associative, caritative della città, della diocesi, perché proprio in estate abbiamo un aumento di povertà, perché da una parte abbiamo i rumeni che arrivano sul territorio più massicciamente, quindi li vediamo anche in questi giorni in giro per la nostra città, rovistare nei cassonetti per abbigliamento e ferro. Abbiamo il problema della solitudine, che in estate si fa sentire molto di più, perché mentre tutti vanno in ferie tanti anziani rimangono da soli, anche tanti badanti e badante sono sul territorio, quindi aumentano i numeri, ma aumenta anche la diversità del problema, del fenomeno. Aumentano anche però, possiamo dire, un po' i volontari che vi danno una mano, insomma vi date da fare grazie anche a tanta solidarietà. Sicuramente, sia solidarietà di tante persone che concretamente vengono ogni giorno a dare una mano, ma anche solidarietà rispetto a tante aziende che ogni giorno ci permettono di dare un pasto caldo, partendo dal pane alla carne, alle verdure che possiamo poi servire a chi ha bisogno.